Buongiorno, sono Riccardo, BMW Genius del gruppo Fimauto Autogemelli. In questo breve tutorial vi mostrerò come collegare il vostro telefono al sistema BMW per permettervi di effettuare le vostre chiamate e di ascoltare la vostra musica in totale libertà. Per prima cosa recatevi nel menu comunicazione. Di seguito andate su Gestisci dispositivi mobili e successivamente cliccate su Connetti nuovo dispositivo e infine su Telefono. A questo punto apparirà un codice BMW sullo schermo della vettura e nella pagina di gestione del vostro telefono. Dal vostro smartphone selezionate il codice vettura e proseguite con le istruzioni che appariranno sullo schermo. Ci sono pochi e semplici step da seguire che però possono variare a seconda della tipologia di telefono utilizzato. Una volta terminata la configurazione, il nome del vostro cellulare apparirà nella lista dei dispositivi e dopo pochi secondi verrà scaricata la vostra lista contatti all'interno della vettura. Grazie. Grazie.